però chiamiamo anche l'altra cantante cantante venite Francesca, Francesca tutte con noi Francesca vieni c'è qualcuno che sa fare click con una macchina fotografica dovrebbe essere praticamente pronta chi è che mi fa un brazo? guarda il tasto è quello davanti ancora, ancora, dov'è? il senso bello dov'è? oh happy day ma è di scuola 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 quando face a sa essere oh happy day oh happy day poi al canto ma è di scuola oh 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 Grazie a tutti 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 Parole sante Grazie a tutti Così Così Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E Grazie a tutti 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 Grazie a tutti